Giacomo D'Ignazio alla Presidenza, Stefano Cianciotta, amministratore delegato, entrambi terramani, sono i due uomini a capo della nuova Fira, la finanziaria regionale nata dalla fusione per incorporazione di Fira e Abruzzo Sviluppo e che potrà avvalersi anche delle competenze della Ciappi per il settore della formazione professionale. Quando si parla di pubblica amministrazione non è mai scontato procedere in tempi rapidi ad una fusione e in questo caso oltre ai tempi credo che gli elementi di differenza siano appunto nella capacità e nella qualità del progetto. Quello che dovrà connotare questa nuova società è che la sfida davanti, soprattutto grazie al settenato dei fondi comunitari, possa tradursi in nuova crescita e sviluppo per la regione Abruzzo. Tra le attività nuove che sono state appunto incardinate nella nuova società c'è la formazione e proprio il sistema formativo. Ricordo che l'Abruzzo non ha più una società di programmazione e relazione alla formazione. Una volta c'era Abruzzo lavoro, anche in quel caso la nuova Fira può sopperire a questa mancanza. Un'operazione abbastanza complessa, in pochissimo tempo abbiamo fuso due società importanti per la regione Abruzzo e quindi da oggi abbiamo una società molto più forte che andrà a dare un servizio integrato all'economia abruzzese, dal servizio all'impresa, a strumenti finanziari per le imprese, ma come anche avremo dentro formazione professionale e marketing territoriale.